Musica Ben trovati a Qui Regione, le notizie direttamente dal Consiglio regionale. Nei giorni scorsi la Conferenza delle Regioni ha dato il via libera al testo della cosiddetta autonomia differenziata. Il progetto di legge Calderoli è stato approvato con i voti contrari di Campania, Puglia, Emilia Romagna e Toscana. Come si era sviluppato il dibattito a Firenze? La posizione della Lega, le spiegazioni al no nel governatore Gianni. Arriva in Consiglio dei Ministri il progetto di legge Calderoli, si è lavorato per migliorarlo. Sappiamo che l'attribuzione delle funzioni avverrà soltanto dopo la definizione di livelli essenziali di prestazione, che ci sarà un fondo per equativo, che ci sarà autonomia anche in materie importanti come la sanità. Tutto questo è nell'interesse del Paese. Hanno espresso parere contrario in conferenza Stato-Regioni quattro presidenti, quelli di Campania, Puglia, Emilia Romagna e appunto Toscana. Ovviamente con il prosieguo del processo che vedrà l'attuazione dell'autonomia differenziata, si potrà trovare una ricomposizione. Le ragioni del momentaneo dissenso nelle parole del presidente Gianni. Io sono assolutamente convinto che l'articolo 116, terzo coma della Costituzione, debba essere attuato attraverso intese, attraverso un ruolo del Parlamento importante, evitando che si arrivi all'autonomia differenziata creando maggiori squilibri fra nord e sud. Deve essere un modo più efficiente, con più servizi ai cittadini, per gestire all'interno di una regione competenze che la regione può gestire meglio dello Stato. Quindi io ritengo che debba essere molto migliorato, ha delle criticità evidenti, il decreto che vuole essere la legge quadro presentata dal ministro Calderoli, ma sui principi dell'autonomia differenziata io mi confronto perché ritengo che sia una strada da percorrere. Attraverso un forte ruolo delle regioni migliora l'efficienza, i servizi, la proposizione dello Stato verso i cittadini. Spiega meglio la sua posizione Marco Casucci. Noi desidereremmo avere più coraggio da parte del governatore Gianni, il quale limita la richiesta di autonomia ai beni ambientali e culturali. Per quanto ci riguarda invece dovrebbe essere stesa ad altre materie e soprattutto occorrerebbe una maggiore sprint, anche se a differenza di altri del centro-sinistra che stanno facendo soprattutto speculazione politica, bisogna pure ammettere che il governatore Gianni su questo si dimostra un po' più aperto. Crisi della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino dopo le dimissioni del sovrintendente Pereira, Nini, Cutaia, Mibac potrebbe essere presto investito del ruolo di nuovo sovrintendente del ministro dal ministro San Giuliano Cutaia e un nome gradito alla regione toscana. Il Consiglio regionale della Toscana nella doppia seduta di martedì 7 e mercoledì 8 ottobre ha discusso una comunicazione della Giunta sullo stato di crisi finanziaria della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a cui era collegata anche un'interrogazione della Lega. Io ritengo che il Consiglio del Maggio abbia corrisposto a quello che il ministro chiedeva ovvero una rapida possibilità di sostituire nel ruolo di sovrintendente Pereira e questo il Consiglio ieri l'ha fatto deliberando all'unanimità su un nome di qualità di assoluto rigore, di grande competenza ma anche di grande attenzione ai conti di un'istituzione come il Maggio, come Cutaia io penso che sia quasi naturale che debba essere nominato sovrintendente. Nini Cutaia dunque è il nome per la carica di sovrintendente della Fondazione del Teatro Maggio Musicale che il Consiglio di indirizzo dell'ente lirico fiorentino ha indicato all'unanimità al Ministro della Cultura San Giuliano. Dopo aver analizzato una terna, gli altri due nomi erano Alberto Paloscia musicologo, consulente artistico e già direttore della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e Marco Parri, attuale direttore generale dell'Orchestra Regionale della Toscana e Presidente della Federazione Nazionale dello Spettacolo dal vivo presso l'Agis il Consiglio della Fondazione Fiorentina ha scelto all'unanimità la candidatura del direttore generale del MIBAC. Passare da un percorso commissariale a mio giudizio non sarebbe giusto non sarebbe corretto per un'istituzione così prestigiosa che si può aver avuto momenti di crisi ma è un'istituzione che sta portando delle realizzazioni di opera lirica che sono di richiamo nel mondo. Il maggio sta manifestando un profilo che è davvero un profilo di straordinaria eccellenza e quindi io lascerei, fossi il Ministro, percorrere con Cutaia quello che è una gestione ordinaria che si rinnova nella continuità con quello che è il grande prestigio che per la Musica Lirica sta portando il maggio. Riguardo al finanziamento regionale che la Regione, vista la situazione, aveva valutato di interrompere, Gianni risponde così. Ma direi che con quello che stiamo vedendo questo non avverrà. Naturalmente gli uffici hanno fatto quella valutazione perché l'avevamo ipotizzata se non vi fosse stato uno sblocco della situazione al maggio ma questo sblocco con le dimissioni di Pereira e con la tempestiva nomina di Cutaia da parte del Consiglio di diritto, a questo punto vengono meno quelle preoccupazioni. Quindi indubbiamente i 2 milioni e 9 che sono il contributo che la Regione dà al maggio naturalmente tutto suffragato da quelle che sono le esigenze di documentazione tecnica verranno a mio giudizio mantenute anche per l'anno in corso e quest'anno il maggio ne avrà ancora più bisogno. Restiamo sulla fondazione del maggio musicale fiorentino dopo il presidente Gianni e anche Fratelli d'Italia intervenuta sulla questione dell'avvicendamento di Pereira e sulla disastrosa gestione dei conti. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, richiede una lettura degli eventi e un'analisi approfondita di come si è arrivati alla situazione attuale che a suo avviso affonda le radici nel passato. Oggi la situazione del maggio musicale è drammatica ma non è drammatica da 5 giorni è drammatica perché è figlia di una gestione disastrosa che si è avvicendata negli ultimi 15 anni dalla sovrintendente Colombo passando per Francesco Bianchi salvo il periodo di Chiarò che evidentemente non era abbastanza spalleggiato alla politica per meritare il maggio musicale tanto che dopo di lui il sindaco Nardella che è il presidente della fondazione del maggio musicale ha voluto portare a Firenze Pereira. Pereira è un fuoriclasse del mondo della fondazione lirico-sinfonica ma in fuoriclasse costano. Come nel suo stile Torselli non usa giri di parole. Oggi noi abbiamo presentato quattro atti due chiedevano una maggiore attenzione per il futuro e ok su questo c'è stata la convergenza ma due parlavano di soldi e parlavano di soldi perché uno volevamo garantire che ai lavoratori del maggio venissero pagati gli stipendi visto che oggi era l'ultimo giorno utile e su quello non c'è stato il voto della maggioranza e l'altro voleva semplicemente riflettere sui contributi a pioggia elargiti da comune e regione a queste strutture. Il pubblico ha il dovere di elargire contributi per la cultura ma ha il dovere di elargirli se ci vi è una gestione virtuosa. 8 marzo il Consiglio regionale ha premiato otto donne toscane che si sono messe in evidenza nel corso del 2022. Un premio a otto storie di donne spesso lontane dai riflettori che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività e a fianco a queste un riconoscimento speciale alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la loro libertà. Così l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha celebrato la festa della donna 2023. La cerimonia si è svolta nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso dove il presidente dell'Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo ha salutato le premiate e i partecipanti sottolineando come tante presenze siano il segno più bello dell'importanza di questa giornata. Abbiamo voluto premiare otto donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo a volte storie meno note a volte più note di cui noi vogliamo andare orgogliosi questo è il senso dell'iniziativa di oggi un'iniziativa voluta da tutto l'ufficio di presidenza. Insieme al presidente Mazzeo erano presenti i vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci. Per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie che fanno dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione un grande elemento di forza della nostra regione. Abbiamo ascoltato la testimonianza toccante delle donne iraniane la Toscana è grande quando sa parlare al mondo quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili per i diritti sociali. La presidente della commissione Pari Opportunità Francesca Abbasanieri ha colto l'occasione per tracciare un bilancio. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna è la giornata dei diritti delle donne e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La regione toscana attraverso i suoi organi più importanti la Giunta e il Consiglio regionale ha fatto una serie di interventi e di iniziative e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi proprio per andare in questa direzione cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazione e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne. Infine le parole del difensore civico Lucia Annibali È stata una bellissima iniziativa emozionante, a tratti anche commovente perché abbiamo ascoltato storie che comunque ci toccano profondamente di sofferenza però è stato molto bello ascoltare i racconti di vita di queste donne straordinarie effettivamente che hanno raggiunto con anche la loro capacità di sognare le proprie ambizioni e quindi hanno esercitato appieno la propria libertà di esserci e di realizzarsi nel mondo del lavoro anche su un piano personale. E tra le donne appunto premiate chef, archeologo, medico e una tennista sentiamo allora le loro voci Fino al 1919 una donna non poteva vendere la casa senza la firma del marito Fino al 1946 non avevano il diritto di voto e fino al 1975 esisteva ancora il delitto d'onore non solo nel 1996 solo nel 1996 lo stupro è diventato delitto contro la persona Tanti passi in avanti dunque sono stati fatti tanti sono ancora da fare Questo il filo rosso che unisce alcune interviste alle otto donne dimostratesi eccellenze in vari campi Iniziamo dalla maremmana Valeria Piccini chef premiata con due stelle Michelin che si rivolge a tutte le ragazze che vogliono intraprendere la strada della ristorazione Sono Valeria Piccini del ristorante Caino di Montemerano Sono una donna chef e da 25 anni mi porto con me le due stelle Michelin che questo per me è un grande onore e mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti quasi sempre da uomini però uno che ci mette tutto il cuore tutta la passione la costanza lo studio tutto il suo sapere ce la può fare tranquillamente io e altre donne come Annine siamo l'esempio e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo A nome di Martina Trevisan tennista fiorentina che occupa il numero 25 nel ranking BTA è intervenuto il suo manager Tennis è uno sport molto competitivo per le donne è uno sport molto solitario è uno sport che porta a galla tutte le debolezze che porta a galla tutte le paure e quant'altro e quindi è un costante rimettersi in gioco ogni giorno e affrontare tutto quello che sono i propri limiti i propri fantasmi e poi gioire per quello che si è riuscito a fare Martina ha stupito tutti l'anno scorso a Parigi raggiungendo la semifinale Roland Gavos però noi del suo team siamo convinti che sia stato un assaggio Liliana Dell'Osso presidente della società italiana di psichiatria è stata la prima donna a presiederla in 150 anni è un premio a tutto il mio gruppo di allievi di studenti che ci seguono quindi sicuramente per questo mi ha veramente emozionato quindi sicuramente il merito è della clinica racconto un aneddoto qualche tempo fa quando piove molto forte la clinica le cantine si allagano e per per puro caso mi sono trovata a salvare dal macero i registri della clinica psichiatrica dalla sua fondazione in 1906 è stata un'emozione ho anche scritto un libro sull'argomento proprio vedere com'è nata e vedere quanti cervelli sono stati necessari per costruire questo tempio di sapere dove ancora io ho pazienti che vengono anche dall'Europa e non è merito mio io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa quando sono diventata direttore che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano Sara Montemerani medico del 118 di Arezzo ha ricordato la sua esperienza in Turchia durante le operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal terremoto l'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto è un onore ricevere questo premio da parte della regione toscana che ha investito tanto nel progetto dell'usare che penso e spero continui ad investire perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia dedico la premiazione a chi mi è stato accanto a chi mi è stato accanto da casa a chi mi è stato accanto là anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equip quindi io in realtà sono soltanto uno delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia perciò un ringraziamento speciale una dedica speciale va a tutti loro dal mese di febbraio Violante Gardini Cinelli Colombini è presidente del Movimento Turismo del Vino Toscano e nel CDA della Givi giovani imprenditori vitibinicoli toscani quando si parla di donne si parla di un modo diverso di ragionare dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi le donne ragionano per relazioni questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti io parlo della nostra del nostro ruolo quindi delle cantine italiane sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne nelle cantine ma sono in netta maggioranza nel marketing nella comunicazione dove arrivano all'80% nelle vendite dove anche se è piccolina la percentuale di maggioranza siamo al 51% Lucia Ghieri titolare della MGM motori elettrici l'azienda ha sede qui in Toscana in Lombardia a Milano e in altre quattro abbiamo stabilimenti in altre quattro parti del mondo in India in Turchia negli Stati Uniti e in Canada la holding è di diritto italiano quindi paghiamo le tasse in Italia MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali e sono lì non per quota rosa o per favoritismi ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato e infine il riconoscimento alle archeologhe di San Casciano dei Bagni la portavoce è bellissimo essere qua oggi anche perché io sono a San Casciano fin dai primi scavi nell'area del Bagno Grande quindi è veramente emozionante vedere la portata e anche la risonanza che questo ha avuto l'interesse delle persone verso il nostro lavoro e proprio per questo oggi siamo qua anche per ringraziare di questo riconoscimento per chiedere che alle donne nel mondo dell'archeologia sia concesso una maggiore attenzione perché noi siamo una goccia in un mare di tante archeologhe perché siamo soprattutto donne che però spesso non vedono propriamente riconosciuti i loro lavori i loro diritti ed è tutto qui Regione vi dà appuntamento al prossimo notiziario grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie a tutti